Antica fonte che torna a splendere, nuova vita infatti per la fonte di Venere a Fossacesia di epoca romana posta sotto il muraglione della Abbazia di San Giovanni, da anni in stato di abbandono e degrado. L'intervento rientra nel più ampio progetto per la sistemazione del Belvedere, primo passo verso la piena fruibilità di uno tra i complessi monumentali più suggestivi d'Abruzzo. Il progetto prevede il consolidamento strutturale della fonte che ha accusato l'incessante logorio del tempo, oltre alla realizzazione di percorsi di accesso sia dal Belvedere che dal parcheggio sottostante. I fondi pari a 90 mila euro, mezzo milione di euro invece tutti quelli che riguardano la fruibilità e i lavori del Belvedere, sono stati assegnati con deliberazione cipe e l'intervento ha visto il parere favorevole dei soggetti competenti quali Prefettura di Chieti, Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Pesaggio, quella dei padri passionisti. La fonte di Venere è costituita da due vasche in pietra con acqua proveniente da una vicina sorgente naturale, la volta della struttura e in gran parte a botte e secondo la credenza popolare praticata fino alla metà dello scorso secolo, le donne desiderose di concepire un figlio o dalla necessità di avere latte si recavano a bere l'acqua della fonte a scopo benefico e propiziatorio. Ettore Frutti che ha censito tutte le fontane del territorio da anni ha denunciato il degrado della fonte e la necessità di interventi urgenti. La leggenda dice che le donne che volevano partorire, avevano figli, allattavano, venivano qua a bere quest'acqua perché portava benessere e salute per per queste donne incinte e quelle partorite comunque da poco. La leggenda è questa, pare che quest'acqua avesse dei pregi, degli effetti miracolosi. E poi per anni è stata in completo abbandonazione? No, per anni, io sono, guardi, io ho le lettere che ho mandato con la sovrintendenza, la prefettura, anche con Vito Sbrocchi che fa parte dell'Archeoclub di San Vito, ci siamo interessati, questa è una delle più vecchie fonti situate nel nostro territorio. Qui sopra c'è un foro, c'è un foro che probabilmente serviva per approvvigionarsi di acqua da sopra, c'è un foro rotondo, molto probabilmente con un secchio, calavano dentro la fonte e prendevano l'acqua. Ho detto se potevano ripulire sopra e riaprire, comunque far riaffiorare, far vedere realmente la fonte, che però tra palenzi questa fonte, il muro continua ancora, continua ancora qua sotto se vedete, insomma anche quello, bisogna rimettere, riposizionare anche questa parte perché insomma è stata lasciata veramente all'abbandono per un bel po' di anni.